Ciao ragazzi, sabato 28 settembre ho partecipato all'inaugurazione di un nuovo spazio Caccaro a Vede Lago presso Rigona Reda. Volevo dirvi qualcosa sui sistemi che ho trovato nello showroom perché nella mia precedente intervista con Roberto Caccaro erano arrivate diverse domande. Ovviamente il protagonista dell'inaugurazione era il sistema Freedom, un sistema di moduli per il grande contenimento da disegnare in base alle vostre esigenze. Una delle prime composizioni che ha attirato la mia attenzione è quella che state vedendo in questo momento, una composizione perfetta per l'ingresso perché abbiamo un modulo terminale appendiabiti che si chiama Rumi dove in pratica sfruttate l'esterno del modulo che in un armadio normale invece è sempre chiuso, mentre qui potete sedervi, mettervi o togliervi le scarpe, appendere giacche e cappotti ma anche riporre la borsa e altri oggetti come ad esempio il portafoglio e le chiavi di casa. Ovviamente lo potete abbinare ad altri moduli, uno fra tutti quello con lo specchio girevole visto che stiamo parlando della zona dell'ingresso, specchio girevole che ruota di 360 gradi e che sul retro ha delle tasche dove sistemare oggetti di vario genere. Un'altra composizione presente nello showroom e perfetta per la zona giorno è questa e vi spiego com'è concepita. Nella parte di destra abbiamo il modulo con tre tipi di apertura delle ante, ovvero apertura a battente, a cassetto e a ribalta e ci tengo a farvi vedere la differenza tra quando è chiuso e quando è aperto. Ed è un modulo che come tutti gli altri va personalizzato secondo i vostri desideri, quindi se dovete riporre dei libri piuttosto che altri complementi d'arredo e altri accessori come ad esempio i quadretti con le fotografie. Nella parte di sinistra della composizione abbiamo invece il modulo con apertura totale, che come spiegava Roberto Caccaro è un brevetto dell'azienda. Apertura totale che non è solo molto comoda, ma è anche bella da vedere perché la potete lasciare aperta tutto il giorno e non dà fastidio, ne occupa spazio. In questo modulo è sfruttata nella zona giorno, ma la potete portare anche in altri ambienti, dalla cucina per quanto riguarda le credenze, così come nella zona notte. Altra particolarità della composizione è il modulo per il cambio di profondità, che a livello estetico è piacevole ma è anche utile perché lo potete sfruttare per riporre ad esempio dei libri, proprio come in questo caso. Nello showroom ho trovato delle composizioni anche per la zona notte. Innanzitutto Camerino, che si riconosce subito perché il sistema di moduli più accogliente, con tanto spazio per mettere in ordine il vostro guardaroba. In pratica potete entrare all'interno di Camerino, che ha l'apertura totale e dei led che fanno luce dentro il modulo, potete personalizzarlo in tantissimi modi, scegliendo tra le altre cose se volete delle ante frontali in laccato oppure in vetro. Potete fare degli abbinamenti con degli altri moduli e poi un sistema trasversale, come tutti i moduli dell'azienda. Trasversale perché è vero che è molto amato nella zona notte, ma va bene anche nella zona giorno e nella zona studio. Nello showroom ho dato un'occhiata ad altri moduli, come ad esempio quello ad angolo, che in questo caso ospita dei ripiani ed è attrezzato per riporre gli indumenti. Anche questo spazio è illuminato all'interno e l'angolo si raggiunge facilmente, quindi è comodo per riporre vestiti ed altre cose. Come ci spiegava Roberto Caccaro durante l'intervista, l'azienda è specializzata nel vestire le pareti e il sistema di punta è il sistema Freedom. Una parte della produzione è riservata ai prodotti del medio contenimento, che aiutano ad organizzare gli spazi della casa, e poi ai letti matrimoniali di design. Nella descrizione del video trovate le informazioni per contattare e raggiungere lo showroom di Vedelago e trovate anche tutti i riferimenti social di Caccaro. Se invece volete informazioni sulla rete vendita più vicina a voi, non dovete far altro che andare sul sito aziendale e alla pagina contatti troverete il modulo per dialogare con l'azienda. Fatemi sapere che ne pensate delle creazioni viste in questo video, scrivete un commento qui sotto e se avete delle domande chiedete pure e vi risponderò il prima possibile. Condividete il video, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!